Sarà forse merito del capitolo privatizzazioni, il pilastro del piano economico del governo sul quale il ministro Saccomani ha garantito a Bruxelles tempi rapidi, sta di fatto che quello che parte oggi a Roma e prosegue domani a Trieste non è un semplice vertice intergovernativo tra Palazzo Chigi e il Cremlino. A guidare la maxidelegazione 5 aerei 50 autoblindate sarà direttamente Vladimir Putin che interrompe così un'assenza durata sette anni dalla scena italiana in veste ufficiale, segno concreto dell'importanza del bilaterale in vista dell'imminente presidenza italiana dell'Unione Europea a metà 2014. Certo c'è anche l'incontro storico sempre più vicino tra il Papa e il Patriarca Ortodosso di Mosca, oggi Putin incontrerà per primo Francesco in Vaticano, poi sarà la volta della visita inquirinale preceduta però dal saluto a due ex premier Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Ma saranno le firme dei protocolli congiunti, sette accordi istituzionali, una ventina quelli commerciali con la presenza a Trieste di 11 ministri russi a caratterizzare il vertice. Dopo la Germania in Europa e l'Italia il partner principale di Mosca sono una novantina le società italiane partecipate da capitali russi, 500 quelle che invece operano nell'ex Unione Sovietica. In testa agli interessi degli oligarchi c'è l'energia, con tutti i nostri governi Putin ormai da una decina d'anni ha cercato salde alleanze per la realizzazione del gasdotto South Stream, la linea che porterà il gas siberiano in Europa aggirando l'Ucraina attraverso l'Italia. L'ENI dal 50% iniziale oggi è scesa al 20% del consorzio e le prossime quote in vendita del nostro colosso energetico potrebbero far gola al Cremlino. Anche nel settore della raffinazione la presenza è forte, Rosneft è entrata in società con la Saras della famiglia Moratti, Luca Oil possiede gli impianti ERG di Priolo in Sicilia. Poi c'è l'acciaio, nel 2005 è diventata russa l'azienda siderurgica Lucchini di Piombino, mentre il fondo russo Pamplona detiene il 5% di Unicredit. Considerando infine la miriade di investimenti privati nell'immobiliare di lusso e non, l'Italia insomma è davvero nel cuore dei capitali russi e nel mirino degli oligarchi di Putin potrebbero finire presto oltre l'ENI, fin meccanica e fin cantieri.